Passo 1. Utilizzare Wipes Wet numero 1 per pulire lo schermo. Passo 2. Utilizzare Wipes Dry numero 2 per asciugare lo schermo. Passo 3. Usa Dust Absorber per assorbire le polveri sullo schermo. Passo 4. Staccare l'adesivo. Posizionare la spugnetta nera sulla scrivania. Passo 5. Rimuovere la pellicola Linguetta 1. Passo 6. Posizionare la protezione sullo schermo. Allinearla correttamente. Se non è possibile allineare correttamente la protezione, sollevarla e riposizionarla correttamente. Passo 7. Utilizzare la spatolina per schiacciare la protezione per lo schermo. Passo 8. Sollevare la linguetta 2. Spingere la spatolina dalla linea tratteggiata fino alla parte superiore del telefono. Passo 9. Sollevare la linguetta 3. Spingere la spatolina dalla linea tratteggiata fino alla parte inferiore del telefono. Passo 10. Usa la spatolina per spremere le bolle sulla protezione dello schermo. Passo 11. Rimuovere la pellicola Linguetta 4. Passo 12. Usa il pollice per premere delicatamente la protezione per lo schermo fino al bordo del telefono, assicurandoti che la protezione aderisca bene. Passo 13. Utilizzare il panno in microfibra per pulire le polveri sulla superficie del proteggischermo. L'installazione è fatta.